Siamo anche più coraggiosi nel camping Questo IMF comunque continua a non funzionare Fai assistere a un membro Raggiungi la sanità mentale del 25% Sfuggi al fantasma Sì, anche qua Anche qua non credo che faremo molto Però lui si chiama Tim Holland Tim invece di Tom è fantastico Tom Holland Sarebbe quello di Spiderman Eh sì Questo è Tim Tim Dai su, fatti sentire Oh, ah no ma qua a volte le tende sono aperte Giusto? Va bene Allora, aspetta che apro anche questa Sto, così vediamo se c'è l'osso Non mi pare Ecco, ma che cosa faccia? Grazie Sempre gentile lei Ma perché in questo camping Piove sempre? No Cosa fa? Ma lei si insinua mentre io sto chiudendo la tenda Direi fossimo macelli Poi non ci chiamano più Non ci offrono contratti Ma già ci pagano poco Perché lei consuma le cose Hanno visto che lei Va al frigorifero e si serve Ovvio Non va bene Ma scusi, per lavorare bisogna lavorare a stomaco pieno Poi ogni ora Ma venga già mangiata da casa, mi scusi No, c'è più gusto, no? A far più frite sul posto di lavoro Le famiglie si sono lamentate Poi ogni ora bisogna fare una pausa di 5 minuti Ho saputo Giusto Anche 8 minuti Anche 8 minuti Infatti i miei diventano 10-15 A volte anche metà Io lavoro, ho diritto Eh sì, c'ha ragione Basta Non c'è niente La pausa è un dovere del governatore No, è il lavoratore Lavoratore, volevo dire Un diritto Un diritto È un dovere del lavoratore E quindi me la cucco Ma va bene Però l'osso non l'abbiamo trovato noi lavoratori Ma come no? Ma se ho fatto la spina dorsale Ma allora me lo dica Io sono qua che cerco l'osso per lei Per lei Sì, la nuvoletta è qua È qua Eh, l'ho solo vista Però, voglio dire Non dice niente sto fantasma Io sto cercando di ascoltare Io veramente sento un sacco dei rumori Non so lei come fa a non sentire niente Però vabbè Eh, il microfono non ha fiatato Ma manco sto coso, Fiat Io me lo butto qua Dove sta la nuvoletta Che magari a terra È la nuvoletta anche qua Davanti a me Niente Non sto capendo Sei l'ombra Sei già l'ombra Uh, mi ha parlato Guardi Verso il falò Verso il falò Da questa Verso quella tenda Cioè Quella di fronte a noi Il tendone Il tendone Sì Dove ci sono tutte le Lo stand Esatto Dove ci sono le birrette Lo stand Lo stand Lo stand Esatto Allora Mettiamo qua la Eh, però la vorrei mettere un po' di qua La telesferica Poi direi di uscire perché se no Eh, mi sa, sì Andiamo Che bel cielo è il lato No, non stia qui a guardare il cielo Che poi la uccide Allora Abbiamo la sanità bassissima Facciamo i cretini E questi sono i risultati Ecco Mi scusi Mi devo mettere Eh, però lei ha acceso tutte le luci Lo deve perdere questo vizio È un'altra cosa Di cui si sono lamentate le famiglie Non si accendono tutte Le famiglie Eh, sì Le famiglie, scusi Le famiglie devono anche sganciare un po' di soldi Voglio dire Ma lei consuma troppo Ma io devo mangiare, beve Se mi scappa da andare al bagno Devo pure andare al bagno Sì, quello lo può fare Però non accenda le luci Perché sennò i fantasmi scappano Ma io ho sempre la scusa pronta I fantasmi con la luce a volte Ci possono comunicare con l'alfabeto S'mors 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 Che fanno Pensavo con le ombre cinesi Invece no Pensi No, no, no Le ombre cinesi è un'altra cosa Mi scusi Io mi incicchetto Mentre lei discute Sì, anch'io Da sola praticamente discuto Questo mi sta dicendo Non so cosa razzo portare Perché non ho capito dove sta questo Eh, neanche io Spider-Man Io porto Ma mi scusi Prima di queste No Che con tutto l'affetto Io porto due dots Io porto Che è meglio Che è meglio Pagano l'oro Ma che gli frega Posso dire Ecco Spetti Spetti Ecco Metta una telecamera lì Brava La mia qua Secondo me Serve veramente a poco Mi metto qua Ma io vedo La nuvola qua Vediamo Sì Ma sta nuvola ci segue Mamma mia La sanità Ma che cos'è E ci siamo appena Incicchettate Ma io non lo so Come si fa a lavorare così Io l'ho detto Che cosa mi ha detto Non lo so Io dico così Perché bisogna sempre Far capire Che uno sa di cosa Sta parlando l'altro Capito La professionalità Si vede già Dalla comunicazione Tra colleghi È importante Infatti ci formano Affinché Tra colleghi Ci sia Collaborazione No Coesione Ma cosa sto dicendo Cosa sto dicendo Eh C'è piaggini Cosa devo dire Mi scusi E intanto qua Non ci sono sfere di luce Non ci sono neanche Che dozzo Niente Secondo me Chi è quello che Che scartabella la sanità mentale Eh Loni Il Raiju È molto timido questo Cioè non si vede proprio È proprio Io non prenderei un altro cicchetto Però guarda quanto si vede c'è Cioè Io non so nemmeno se sta là In realtà Sta sti pizzico Tu con le MF Avevi provato Da quelle parti Sì L'ho buttato lì in mezzo Ma non ha suonato Cioè non so che dire Non Non si palesa Capisci E quindi non so che dire Non so neanche se è lì Che vogliamo fare Eh Proviamo ancora Adesso andiamo con Sì Il libro Porto E dove lo metti Eh Lo metto lì Beh Qua ha tirato qualcosa Questo non c'era prima 3,3 Ok Lo sapevo Come lo sapevo Ma vaffanbrodo No No Io non ho ancora ci visto in mano Non è servito a niente Cretino Guarda come siamo bassi Beh però abbiamo Abbiamo assistito Siamo due membri Abbiamo assistito Va bene Quindi adesso la sanità è bassissima Va ripreso al cicchetto Non mi capisco Io l'ho sentito ma non l'ho visto No infatti non si è Non si è visto Adesso aspetto che risale un po' Non si è visto Non si è visto Si è sentito Si è sentito Ma lei mi prende in giro Mi consente Ma che Che collega c'ho io boh Vedi che è lì Ha tirato robe Mi prende ancora in giro Faccio notare Faccio notare È lì è lì Io sposterei anche le MS Che l'ho messo all'altra parte Cosa fa quel crocifisso Faccio a me Io boh veramente Con chi devo lavorare Ma si può lavorare in questi Ma si è alzata Eh si è alzata di poco La sanità Andiamo Devo prendere le MS Adesso ti piazzo subito Il crocifisso qua Così la smette di fare il cretino Tim Te E qua ti metto il libro Scrivi scrivi Impegnati Write on the book Please 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 Non ho portato nient'altro Sono rimasta sprovvista Guarda Dall'altra parte del Cosa Cioè l'MF Eh infatti No l'ho preso io Da qua Non so come ho fatto Strano che non ha acceso Il fornelletto Qua Cioè guarda Da qua Ha preso i cerchi E l'ha tirato Ha tirato un cerchio qua Già Hai visto? Ma vaffa l'ova La racca Eh qua non fa più niente Eh Cosa ha fatto? Ho sentito l'umore No Lui Ecco Due Qua Ok Eh quindi è qua Due virgola nove Tocca rientrare Perché la sanità Starà Scendendo Di brutto Eh ma Non abbiamo niente Eh lo so Ah ecco Aveva tirato qualcosa Ha tirato una palla Ci ha seguito Fino a fuori Eh te lo dico Però non fa nulla Sfere non ce ne sono Doz non ce n'è Allora Aspetta Vediamo Eh beh Non è che migliora Tanto la cosa E quindi Non lo so Non ho proprio idee Manco io Non ho Un'idea Ma potrebbe essere L'ombra Ma sì Sicuramente Però Non Cioè Così Proprio sulla A tirare A indovinare Perché non ci ha fatto Praticamente nulla Non ha fatto Niente Mettiamo l'ombra E scappiamo Dai Aspetta Tanto quando è così Non è che sta qua Fa Dai Anche perché se rientriamo ci ammazza Quindi Già abbiamo pochi soldi qua Infatti Cioè Mi è trovato Ricomprato tutto Prima Ma io boh Il phantom Sì Vabbè Come facevamo Il phantom Almeno si deve mostrare Per farsi Per La particolarità È quella che si spaventa Quando gli fai la foto Ma se non si fa vedere Come fai a fargli la foto Vabbè Punti Pochissimi punti Pochissimi punti Ma ce li facciamo bastare